Nel 2014 sono state 3.808 le pratiche gestite dal difensore civico della regione Piemonte che tutela i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Il maggior numero di richieste ha riguardato i servizi alla persona, le opposizioni a dimissioni ospedaliere, la previdenza sociale, l'assistenza pubblica e l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico. È stato un anno molto intenso, con un numero rilevantissimo di richieste di intervento che documentano un crescente disagio sociale e una crescente domanda di difesa civica. Da parte di categorie particolarmente svantaggiate, quali disabili, malati cronici, persone vittime di malo sanità, donne vittime di violenza e situazioni varie in cui è necessario tutelare dei diritti e comunque dei rapporti nei confronti di pubblica amministrazione silenti o inadempienti o non sempre collaborative e dialogiche nei confronti degli utenti e dei cittadini.